Dove comprare computer con Linux? Non ne troverai nei grandi centri commerciali. Se un computer usato o ricondizionato non fa per te, ecco un elenco di store online in cui acquistare computer con Linux preinstallato. Ciao, sono Dario di Alternativa Linux. Prima di cominciare, sicuro di aver bisogno di comprare un nuovo computer con Linux? Non dico che hai un PC che non sai di avere, ma se cerchi Linux sei già sensibile a certi temi. Sicuro che tra amici e parenti non ci sia qualcuno che i computer per lavoro o di letto li cambia spesso e magari non ha nemmeno interesse a recuperarne uno con quattro o cinque anni di età? Perché un computer così è una bomba con Linux. Sicuro che un computer usato, per cui un rivenditore dovrebbe comunque fornirti garanzia, non sia una soluzione preferibile? Ho anche un computer recente, ricondizionato, cioè con un difetto non tanto grave per cui è stato restituito al produttore che lo ha rimesso a nuovo. Ci sono tante buone ragioni per pensarci. Primo, non hai bisogno di tanta potenza per un uso da utente comune, perché molte versioni di Linux si adattano anche a computer di oltre dieci anni. Secondo, risparmieresti diversi soldi, come succede per un'auto con pochissimi chilometri. Terzo, daresti un grosso aiuto all'ambiente perché acquistare computer usati o ricondizionati, seppure indirettamente riduce il numero di quelli costruiti e di quelli destinati allo smaltimento. Quarto, sfuggiresti alla obsolescenza programmata, per cui si vuole farti cambiare un elettrodomestico ancora funzionante. Quinto, con una parte del denaro risparmiato potresti supportare progetti open source e allora non ce ne sarebbe più né per Windows né per macOS. Comunque sia, per la massima tranquillità, per l'acquisto di un computer con Linux, niente può sostituire il contatto umano. Una scelta fatta di persona, in presenza, come ci siamo abituati a dire negli ultimi anni. Allora, se stai in Italia, non c'è di meglio che consultare l'elenco dei negozi Linux C organizzato e mantenuto dalla Italian Linux Society. L'elenco, continuamente aggiornato, permette di trovare negozi in cui acquistare nuovi PC con Linux preinstallato o comunque senza sistema operativo e fornirti supporto in caso di problemi. Se successivamente hai un problema e preferisci evitare servizi professionali che ovviamente si pagano, verifica l'elenco dei Lug, i Linux User Group, anch'esso mantenuto dalla ILS. Qui trovi riferimenti ad organizzazioni di volontari che in tutta Italia si rendono disponibili a risolvere le più comuni problematiche legate all'uso di Linux nel proprio computer. Se invece sei abituato ad acquisti online, ti verrà forse in mente di fare una ricerca su Amazon, indipendentemente dal fatto che tu desideri acquistarci un computer portatile o fisso. L'esperienza è frustrante, perché computer dotati di Linux o solo privi di Windows con DOS prevedono una scelta limitatissima. Perché accontentarsi di scegliere tra poche opzioni e talvolta con caratteristiche minime in un nuovo computer con Linux? Potrebbe valere la pena trovare modelli rilasciati con Windows e verificare nelle domande sul prodotto se ci sono informazioni sulla compatibilità con Linux o Ubuntu. Se non trovi risposta, potresti trovarla in linuxhardware.org o anche in hnod.org. Siti web per verificare il supporto Linux di computer, componenti di essi e altre periferiche. Sono punti di riferimento fondamentali, consultati quotidianamente da tantissime persone ed arricchiti di continuo grazie alle segnalazioni fatte dagli utenti in base alle loro esperienze personali. Anche il sito Ubuntu Certified è ottimo per trovare hardware certamente supportato da Linux. Ma io non voglio spendere il mio denaro per un sistema operativo che nemmeno intendo usare, potresti obiettare. Concordo in pieno, altrimenti non ti avrei consigliato prima di tutto l'acquisto di un computer usato o ricondizionato. Grazie ad una battaglia condotta in Italia da ADUC, la Corte di Cassazione ha sancito il diritto per il consumatore di ottenere il rimborso del costo di licenze di sistemi operativi non utilizzati. Purtroppo, però, dopo circa dieci anni da questa sentenza, la realtà dei fatti è tutt'altro che incoraggiante. Alcuni produttori di computer sono più virtuosi, altri non lo sono per niente. Se ti interessa questa possibilità, non avviare il computer o comunque non accettare le condizioni di licenza al primo avvio. A questo proposito, segnalo il sito web sistemainoperativo.it, in cui trovi informazioni sulle pratiche di vari produttori di computer per ottenere il rimborso della licenza Microsoft. Trovi anche tanti casi documentati nel dettaglio, fatti talvolta di enormi sforzi per ottenerli. E potrebbero farti cambiare idea su alcune marche. Torno al tema principale del video. Negozi online che vendono computer fissi, mini PC e portatili con Linux preinstallato. E quindi compatibili con distribuzioni Linux di ogni genere, oltre quelle previste di fabbrica. Non si tratta di recensioni ma di segnalazioni. Non posso fornire un giudizio di affidabilità. L'elenco è una mia creazione basata su approfondite ricerche e non ho avuto alcun contatto con loro. Perciò non mi assumo alcuna responsabilità in caso di problemi. Tutto ciò che so è riportato in questo video e non sarei in grado di rispondere a domande più specifiche. Conto sulla tua voglia di muoverti in autonomia visto che nella pagina blog di questo video riporto tutti i link. Una nota riguarda i portatili che non prevedono tastiere in italiano. Non significa che siano inadatti ad utenti di lingua italiana. Ogni sistema operativo consente infatti di personalizzare l'impostazione della tastiera. Solo che non troverai alcune lettere o simboli nei tasti in cui te li aspetti. Ma con appositi adesivi da applicare solo su pochi tasti si risolve il problema. Ne ho usati nella tastiera di un tablet convertibile e dopo tanti anni non solo non presentano alcun difetto o sbavatura di colla, ma è difficile accorgersi della loro presenza. Fine del disclaimer. Vediamo rapidamente questi store che vendono computer con Linux preinstallato. Cirrus 7 è una società tedesca specializzata in mini PC di alta qualità, silenziosi perché raffreddati senza ventole. Mentre scrivo per i modelli Incus e Nimbini puoi richiedere Ubuntu o Linux Mint nelle ultime versioni. Cirrus 7, nel sito web, tradotto anche in inglese, sfoggia orgogliosamente premi ricevuti e partnership di tutto rispetto. I tre modelli attualmente presentati sono configurabili nei dettagli su architetture AMD o Intel. Da caratteristiche più che adeguate per uso da ufficio e prezzi inferiori anche a 500 euro fino a configurazioni di massimo livello e costose. Spedizioni in Europa al costo attuale di 20 euro, chiare condizioni di recesso e consegna in 8-14 giorni per computer che almeno per l'aspetto ispirano fiducia. Dell è stata tra le prime ad offrire computer equipaggiati con Linux. I computer Dell che prevedono spesso Red Hat o Ubuntu come sistemi operativi su base Linux sono di massimo livello rivolti a professionisti e assai costosi. Puoi trovare altri modelli Dell compatibili con Linux nel sito Ubuntu Certified per accertare che siano pronti all'uso con Ubuntu e immagino anche con altre distribuzioni GNU Linux. La pagina web internazionale dei computer Dell con Linux preinstallato non esiste nella versione italiana, in cui il filtro per sistema operativo prevede solo versioni di Windows. Poi però, almeno per alcuni di essi da trovarsi con fatica, nella scheda prodotto trovi anche Ubuntu come scelta alternativa. Entroware è una società britannica specializzata in PC fissi, mini PC e server basati su Ubuntu LTS e Ubuntu Mate LTS. Ma la gamma di portatili è la più ampia e prevede modelli da 14 a 17 pollici. Tutti i computer al momento sono su base Intel di ultima generazione. Prodotti di grido, insomma, configurabili nei dettagli e con prezzi in linea con il mercato. Non ho trovato indicazioni sul layout di tastiera. Dalle foto mi pare quello britannico. Come già detto, puoi impostare l'italiano nel sistema operativo e applicare appositi adesivi sui tasti che lo richiedono. Garanzia per tre anni, con differenti formule di assistenza che rappresentano certamente il plus dell'azienda. Entroware consegna in alcuni paesi europei, tra cui l'Italia. Ma immagino sia un problema temporaneo se qualunque città selezionata, anche capoluoghi o la capitale, un avviso invita a contattare il servizio assistenza per ottenere una quotazione precisa del costo di spedizione. Juno Computers è un'azienda americana, con distaccamento anche in Gran Bretagna. Nella sua gamma di prodotti si trovano al momento portatili e mini PC di fascia esclusivamente alta, con processori Intel Core i7 e i9 di decima generazione e scheda Nvidia da 4GB o AMD Ryzen 9 con scheda integrata. Tutti con un minimo di 16GB di RAM. Sono installate a scelta la più recente versione intermedia o LTS di Ubuntu. I portatili prevedono layout di tastiera molteplici, tra cui quella italiana. Juno commercializza anche tablet basati su Intel Celeron Quad Core, 8GB di RAM ed SSD fino ad 1TB. I sistemi operativi per il tablet consentono la scelta tra Mobian, versione mobile di Debian, con interfaccia Foch, oppure Mangiaro con plasma mobile. Laptop with Linux è lo store della società olandese Comex R. Il sito web è tradotto anche in inglese. Tre gli scopi dichiarati. Libertà di scelta, trasparenza e privacy per limitare il monopolio Microsoft. Portatili e mini PC configurabili con una scelta di sistemi operativi Linux esagerata. Senza costi ulteriori rispetto alla consegna senza sistema operativo. I portatili sono disponibili con impostazioni di tastiera in tutte le lingue, compreso l'italiano. Spedizione gratuita in tutta Europa, chiare condizioni di recesso, ottime recensioni. Non mi sono limitato a quelle riportate nel sito, ma come per tutti gli altri produttori ho verificato su Trustpilot. Apprezzamenti per la rapidità di consegna e soprattutto per la qualità del servizio e la disponibilità del personale. Lenovo prevede diversi ThinkPad e fissi ThinkStation con Ubuntu preinstallato, ma anche soluzioni Red Hat. Come per Dell, la pagina sulle soluzioni Linux è disponibile solo nella versione americana del sito web. Nel sito web italiano, nel campo di ricerca, digiti Linux e trovi suggerimenti, ma poi il filtro dei sistemi operativi riporta solo versioni di Windows. Cerchi la parola Linux nella pagina stessa di risultati e anche quando credi di averne trovato uno, puoi scegliere al massimo che ti sia consegnato senza sistema operativo. Quindi, anche se i ThinkPad sono notoriamente compatibili con Linux, come per Dell, isolare computer in cui Linux è preinstallato è assai complicato. Microtech SRL è una realtà italiana, certificata ISO 9001 e immette sul mercato differenti prodotti, tra cui portatili equipaggiati nativamente con Linux, su base Intel o AMD. Puoi scegliere Windows, Chrome OS e Ubuntu, anche se non specificato in quale versione. Oppure LiberOS, sistema operativo basato su Elementary OS. Talvolta trovi opzioni dual boot, ovvero con Linux e Windows insieme e un menu di scelta su quale usare ad ogni avvio. Anche su Amazon e altri siti web, tra cui quelli di alcuni dei negozi Linux sì, cercando computer portatili con Linux potresti imbatterti in prodotti Microtech. Sei sicuro che un acquisto aiuterebbe un'azienda italiana, che i portatili siano dotati di tastiera italiana e che potresti contattare il supporto senza conoscere lingue straniere. Nova Custom, società olandese, commercializza una linea di portatili con Linux. Il sito web è tradotto in più lingue, tra cui l'inglese. Ubuntu, LTS e Linux Mint sono le prime proposte, ma si trovano anche PopOS, Kubuntu, Xubuntu, Elementary OS, Fedora o si può richiedere un altro sistema operativo Linux. Anche in dual boot con Windows, ma in tal caso dovrai aggiungere il costo della licenza Microsoft. Puoi persino richiedere la preinstallazione di programmi per Linux senza costi ulteriori, selezionare layout di tastiera in tutte le lingue e addirittura la forma del tasto invio. La possibilità di rimuovere microfono e telecamera ed il firmware Core Boot su tutti sono ottimi accorgimenti per il massimo della privacy. Di Purism ho parlato in smartphone e tablet Linux 2022. Nella gamma di computer di questa azienda statunitense trovo attualmente un portatile 14 pollici ed un mini PC, entrambi di fascia alta. Il sistema operativo è LibreOS, appositamente realizzato secondo principi del software libero ed è infatti citato tra i sistemi operativi liberi nel sito della Free Software Foundation. Di questa ho parlato in breve storia di Linux. In alternativa si può richiedere Cubes OS, distribuzione GNU Linux orientata alla privacy, che ho citato in Sicurezza e privacy di una postazione Linux. Il firmware UEFI è Core Boot, open source e privo di spyware e difetti di sicurezza. Il portatile è dotato di interruttori per scollegare fisicamente microfoni interni ed esterni, webcam e connettività per il massimo della riservatezza. Purism prevede anche sistemi di autenticazione hardware per l'avvio dei suoi computer. Senza l'apposita chiavetta USB il contenuto del computer è totalmente inaccessibile. Il layout di tastiera è solo in inglese americano, ma impostato l'italiano nel sistema operativo e applicati appositi adesivi su alcuni tasti il problema si supera rapidamente. Pessime esperienze sono riportate dagli utenti su Trustpilot. Schick è una azienda olandese nel cui store puoi trovare portatili con schermi da 14 a 17 pollici, mini pc e fissi all in one di tutte le fasce configurabili per modello. Puoi isolare per ambito di applicazione quello più adatto alle tue esigenze. Si può richiedere Windows o nessun sistema operativo, ma anche diverse distribuzioni GNU Linux, tra cui Ubuntu, Ubuntu Studio, Elementary OS, Zorin OS e Garuda. Sono chiaramente indicati i tempi per la spedizione di ciascun modello. Per i portatili sono selezionabili il layout di tastiera in tutte le lingue. Schick tiene a specificare la cura produttiva e i test effettuati sui modelli. Ha un blog interessante con molti articoli tradotti in italiano ed un sito ben fatto per scaricare i più recenti driver e software per ognuno dei modelli. Slimbook è una società spagnola che commercializza una vasta gamma di prodotti. Tutti specificamente rivolti all'utenza Linux. Il sito web è tradotto anche in inglese. Il forum e gli interessanti e numerosi tutorial sono solo in spagnolo. Portatili essenziali o di fascia alta. PC fissi e mini pc per tutte le tasche fino ai massimi livelli. Sia su base Intel Core che è AMD Ryzen, tra le più recenti e quindi assai performanti e durevoli nel tempo. Mi sembrano prodotti dal rapporto qualità-prezzo molto validi. Slimbook consegna in tutto il mondo e i portatili prevedono layout di tastiera in varie lingue, tra cui quella italiana. Puoi richiedere il computer anche privo di sistema operativo o, senza costi aggiuntivi, con una vasta scelta di distribuzioni GNU Linux e aggiungendo il costo delle licenze anche in dual boot con Windows. Star Labs è una società britannica che commercializza portatili 11, 14 e 16 pollici su base Intel e AMD, anche molto performanti. I computer possono essere richiesti con Ubuntu, Linux Mint, Elementary OS, Manjaro, MX Linux e Zorin OS. Il firmware UEFI previsto è American Megatrends, ma puoi optare anche per Core Boot, open source, rispettoso della privacy e facilmente configurabile. Per il massimo della privacy, la webcam con microfono è facilmente rimovibile grazie ad un connettore magnetico. Mentre scrivo, i portatili Star Labs sono dotati soltanto di layout di tastiera inglese o americana, ma pare che le cose potrebbero cambiare. Poi, come già detto, applicati appositi adesivi sui tasti differenti e impostato l'italiano nel sistema operativo, il problema non c'è. System76 è un'azienda americana e commercializza computer e servizi rivolti esclusivamente ad utenti Linux, ma è nota soprattutto per il sistema operativo PopOS, apprezzato da tantissimi utenti anche al di fuori dei computer System76. La gamma prevede portatili e PC fissi di fascia alta e altissima, con l'ultima generazione di architetture Intel Core o AMD Ryzen. I mini PC sono più abbordabili e prevedono prezzi anche al di sotto dei 500 dollari. L'intera gamma prevede ovviamente PopOS come sistema operativo, ma puoi richiedere anche Ubuntu in sostituzione di PopOS. Il firmware UEFI è quello Open Source Core Speed, quindi niente backdoor o tracciamenti per livelli superiori di privacy. System76 spedisce in tutta Europa e anche in Italia. Nessuna indicazione sul layout di tastiera nei portatili che deve essere quindi solo quella americana, ma consente l'impostazione di altre lingue nei sistemi operativi e con gli appositi adesivi per i tasti che lo richiedono. Think Penguin è uno store online che vende prodotti con la libertà in mente. Questa è la descrizione che campeggia nel sito web Respects Your Freedom, legato alla Free Software Foundation, che incoraggia la creazione e la vendita di prodotti con il massimo rispetto di libertà e privacy. Nel sito Think Penguin trovi periferiche di ogni tipo e categorie specifiche per computer fissi e portatili. Al momento la categoria Laptop non contiene alcun computer. In quella di computer fissi si trovano attualmente quattro prodotti configurabili su base Intel Celeron o Intel Core dalla decima alla dodicesima generazione e con un minimo di 8 GB di RAM. Si può richiedere la preinstallazione di una tra tante distribuzioni GNU Linux e anche la disattivazione della tecnologia Intel ME, da molti considerata una minaccia per la privacy e la sicurezza. Think Penguin spedisce in tutto il mondo. Taxido Computers Società tedesca prevede al momento portatili da 15, 16 e 17 pollici di fascia media e alta, a partire da 650 euro con IVA e spedizione in tutta Europa incluse. Caratteristiche di tutto rispetto su base Intel o AMD con SSD di ultima generazione. Tastiera retroilluminata in tutte le lingue, la possibilità di integrare anche successivamente all'acquisto un modem 4G. Ubuntu, Ubuntu Bagi e Kubuntu nelle versioni LTS sono le distribuzioni che si possono richiedere, anche in dual boot con Windows, eppure con una personalizzazione del logo nel pulsante Start. Quanto ai fissi, la scelta è ancora più ampia e ricopre mini PC, PC micro ATX e di dimensioni standard, a partire da circa 700 euro, fino a configurazioni dotate anche di 128 GB di RAM e di più potenti e recenti processori Intel o AMD. I tempi per la spedizione sono di circa 2 settimane per l'assemblaggio, a differenza dei portatili per cui sono richieste circa 3 settimane. Ubuntu Shop, il nome non inganni. Si tratta di una azienda olandese che offre soluzioni basate su tantissime distro preconfigurate e non solo Ubuntu, tra cui Linux Mint, Mangiaro, Ubuntu Studio, Kali, Parrot e Kodachi. Computer portatili fissi, mini PC e PC all in one. Sono consultabili per tipologia o per sistema operativo preinstallato. Fissi e mini PC partono attualmente da circa 550 euro, mentre i portatili con schermi da 14, 15 e 17 pollici partono da 950 euro. Tutte le tastiere sono retroilluminate e disponibili con differenti layout, tra cui quello italiano. Le spese di spedizione sono di 15 euro per le consegne in Europa. Nello store sono acquistabili anche gli smartphone Linux Volafon, di cui ho parlato in Smartphone e Tablet Linux 2022. I tanti link ai siti ufficiali e anche altri, tra cui quelli delle recensioni su Trustpilot, sono troppi per ordinarli nella descrizione del video. Metto quindi solo il link al post del blog in cui consultarli più comodamente. Tu hai già fatto acquisti in uno di questi store o hai provato qualcuno dei prodotti che ho citato? Faccelo sapere nei commenti e raccontaci la tua esperienza. Grazie per l'interesse e a presto! Grazie per l'interesse e a presto! Grazie per l'interesse e a presto!